La prima piatta sia ora con la commemorazione solena per i centenni dalla fine della Granvera. E con il corso di formazione metto a girare dal Dipartimento di Educazione e Cultura Ladina sulla geologia dei Kisnes Crepes da Marevea. Ti acconti l'attualità con l'opportunità di esporciare le neve tecnologiche in città anche se va a Samont. Con l'avviso per la selezione, con la riflessione di Massimo Girardi e con il sperlongamento del termine di adeguamento per i rifugiati. 8 artisti da Teglia, Francia e Austria a Zipià per 5 di salalongate da Antalautia Sasslonk. Nel 2019 desvaliva neves per la Lavaredo Ultra Trail, con la Mon Outer Percors, un sponsor neve e nadide più di gara. In Cicestano, un gruppo di passioni di Strudel si è abbinato al centro di Badia per cercare la creazione e la neve interpretazione di questo dolce da parte di hotelieri. Della piazza di fascia si è per l'eser del neve servizio del Comune Generale per giperferire serenità alla gente d'età e con pece autonomia. Della disvaliva scommenzativa e smetude a agire per ricordare l'alpinista di Maornonzec dedotto alla Val. E dell'esposizione a Penia indrezziata in occasione del Cedean dell'Associazione. Dappodossi risuona dell'edizione numero 11 della Cognosciuda Festa indrezziata Tito Bia della Val di San Nicolò. In Giù e insonatore mette Dante si pensieri dall'esperienza ai sons della Dolomites. Zoninante con la mostra collettiva di Eles mette ud'agir dall'Associazione La Voce delle Donne. Con la scommenzativa dell'amministrazione del Comune di Soraga di Schiazione di Sensibilizzazione. E con la presentazione del filmazzo del giornalista Piero Badaloni che conta la storia della piccola gesia italiena fatta su Tele Orcadi. Claudia conta nemmeno a ferna spaziereda golosa, fora per la strada della piccola frazione dei Cianacei. Te sotte nel concorso del retrato. Del sport resonon de Roda da Montco e i risultaci dell'Associazione Sportiva da Soraga che ha t'outperta la mini-veccia ferrovia. A pede vedone in cechi di gregni registrete la garege da Forenfiem. Tutta una piatta c'è deslerga all'auges di desvalive satlec-faschen che seder giù con passione della corsa. Fini con la prestazione della gioina da Ciampedelte e la corsa Samont. Sull'Aus Giladins ogni vendere potete trovare la neve da tutta la ladigna. Per info e abbonamenti potete vi auger alla redazione della fascia sul Stradona Saint-Jean. Telefon 04-12-745-45 Mail fascia-laus.it L'Aus Giladins è online sul sito www.laus.it O te la bottega e l'Aus Giladins è di tutta la val. Perfetto è un tottore da sanità di gioia di unico stesso. O te la bottega e l'Aus Giladins è di tutta la lav. Perfetto è un tottore di gioia di unico stesso. Perfetto è un tottore di gioia di gioia di gioia.